SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Questa settimana è una puntata che spazia dallo sci alpinismo allo sky running. Sono in corso di svolgimento i mondiali di ski alp a Verbier. In attesa delle ultime medaglie, Riccardo Selvatico ha intervistato per noi due grandi protagonisti di Casa Italia, ovvero Robert Antonioli e Giulia Compagnoni. Finalmente campione del mondo nella Vertical Sprint Race. Guarda, non sto più nella pelle, non pensavo proprio di riuscire a vincerla. Sapevo di far bene visto che è la mia gara, ma gli avversari vanno talmente forte e poi una gara talmente corta che non si può mai sapere cosa succede durante la gara. Comunque ce l'ho messo a tutta, un applauso anche ai miei compagni di squadra, Pfeiffer, Maghe e Trento, che hanno fatto una bellissima gara e sono arrivato anche loro in finale. Quindi, che dire, un applauso all'organizzazione che ha organizzato una gara veramente bella e fantastica e tecnica, con un bel percorso segnalato bene e con molto pubblico sul terreno di gara. Quindi sono veramente contento. Questa medaglia la dedico alle traglie di forma, che è la mia squadra, dalle Bormiadi, che aiutano sempre a caricarmi molto durante l'estate. Quindi, grazie a tutti i miei amici a casa e ai miei parenti. Il sorpasso con il tedesco Seppi Rotmoser c'è stato nel tratto a piedi, hai fatto metà del tratto a piedi dietro di lui e poi hai messo veramente il turbo, la freccia e si è passato. Sono partito forte anch'io. Rotmoser sul pezzo iniziale ne aveva di più, è riuscito ad allungare bene il passo. Ho cercato di non mollare, stringere i denti e sul pezzo a piedi si vede che lui accusava un po' di fatica e sono riuscito a superarlo. Nel cambio in cima al pezzo a piedi ho fatto un piccolo errorino che mi ha costato di nuovo il sorpasso dietro a Rotmoser. Sul finale, in cima al cambio a piedi, stava per uscire lui dal cambio, c'è stato un piccolo contatto non voluto, lo dice anche lui che non è stato voluto. Un po' mi dispiace perché ci siamo un po' toccati e lui ha perso quei due secondi che potevano farlo vincere, però la sprint è così, c'è poco spazio nei cambi, si va sempre a tutta. Comunque penso che Rotmoser è uno dei più forti che c'è nel percorso delle sprint race, quindi una gran battaglia con lui e sono veramente contento di averlo battuto anche oggi in questo mondiale. Cosa c'è dietro questa medaglia? Quanti sacrifici, quanti allenamenti? Sicuramente la gara qua, tutte le batterie finisce in 20 minuti e fai la gara, però sicuramente dietro questi 20 minuti ci sono tante persone che non si può neanche stare lì a raccontarle tutte perché sono veramente tante e quindi un ringraziamento a tutti e a tutte le persone che sono vicino, dallo staff dell'esercito e dalla nazionale, ai parenti a casa e degli amici che ho a casa. Oggi la gara è andata veramente bene, non me l'aspettavo, mi sono preparata bene per questi mondiali, soprattutto il vertical che era la gara che ci tenevo più in assoluto e devo dire che è andata molto bene. Sono partita e sentivo che le gambe andavano bene, poi però avevo paura di tirar troppo all'inizio e pagarla alla fine, così infatti è stato, soprattutto nell'ultimo murettino l'ho pagata molto, però ho cercato di tenere duro fino all'arrivo ed è andata bene. La gara tutto sommato era abbastanza tosta, lunghettina, però per me con i muri belli in piedi, veramente bella. Franco Collè e Laura Besseghini grifano la seconda tappa del Crazy Ski Alp Tour 2015. Nella suggestiva cornice della Valle del Vanoi, 150 concorrenti si sono dati battaglia su un percorso muscolare di circa 20 chilometri che presentava un dislivello positivo di 1800 metri. Da affrontare vi erano due salite altrettante discese, con partenza e arrivo dinnanzi al rifugio Lozena, 1200 metri sul livello del mare. Per tutti passaggio presso l'omologa Malga, quella grugola, sino a toccare la conca del lago delle Giarine, a quota 1900 metri sul livello del mare. Qui via Le Pelli è giottuta in discesa sino a località Pranuovi, per un nuovo cambio d'assetto e ripetizione della prima ascesa. A fare la differenza, una neve crostosa che ha messo a dura prova le gambe e i materiali degli atleti. Al cospetto di scenari unici, quali la catena della Gorai, le palle di San Martino e il gruppo Cime di Folga, è stata gara vera con il forcing del Veneto Davide Pierantoni, sui più esperti Franco Collè e Filippo Beccari. Al femminile, posizioni più definite con Laura Besseghini, che ha subito preso il largo, tenendo a debita distanza Corinna Gerardi e Federica Osler. Tolte le pelli, il trentino Beccari ha tentato di pigiare il piede sull'acceleratore, ma il valdostano Collè ha tenuto il passo giungendo insieme al cambio. Li seguiva un poco più dietro Pierantoni. In salita, il trionfatore dell'ultimo Tour de Jeanne ha di nuovo cambiato ritmo, guadagnando secondi preziosi. Il suo vantaggio su Beccari gli ha permesso di non prendere rischi inutili nella seconda discesa, di presentarsi in solitaria al traguardo del rifugio Lodzen. Per Franco Collè, successo di giornata in un'ora 56.45, davanti a Filippo Beccari, un'ora 59.02, e Davide Pierantoni, due ore 03.24. A seguire troviamo Andrea Panizza, Christophe Neiderweiser, Ivan Antiga, Manuel De Gasperi, Andrea Protti, Elia Dallapietra e Marco Del Messier. Al femminile nessuna sorpresa, Laura Besseghini ha vinto la gara in due ore 21.20, davanti a Corinna Gerardi, due ore 25.38, e Federica Osler, due ore 24.59. Bene, sono andate pure Monica Sartogo e Marta Scalette. Per quanto riguarda le altre tappe del circuito Crazy Skialp Tour 2015, messa in archivio la seconda prova proposta dall'US Vanoi del presidente Simona Grisotto, si resterà sempre in trentino con la Skialp Varrendina di Pinzolo, in programma il primo di marzo, prima di fare scalo sulle neve orobiche della Valtellina, per l'unica prova a coppie del circuito, la Valtartano-Skialp in calendario, domenica 15 marzo, gran finale con premiazioni di circuito, la settimana successiva, domenica 22, a Europa-Biella, con la Periplo del Monte Rosso. Maggiori info, dettagli e regolamento su www.cresidea.it A fine gara abbiamo intervistato per voi i due vincitori, ovvero Franco Collè e Laura Besseghini. Sì, una gran bella gara, questa seconda gara Crazy Skialp Tour, sono contento, ho fatto un lungo viaggio per venire qua, però ne valsa la pena, una giornata magnifica, un percorso veramente bello, mi sono divertito, discese toste, una bella traccia, fantastico direi, bello, sono contento anche per il mio stato di forma, che sto crescendo per il finale di stagione, speriamo che stanno un po' più fortunato dell'anno scorso. È stata una gara molto bella, anche se non hanno fatto il percorso originale, mi è piaciuta molto, era un terreno con pochi passaggi tecnici, ma la giornata, il sole, la neve fresca di questi giorni l'ha resa veramente divertente e piacevole. Discese difficili, in mezzo al bosco, con neve un po' pesante, a volte crostosa, con le discese secondo me si è fatta tanto la differenza, anche in campo maschile penso, ma soprattutto in campo femminile. Numeri da capogiro per la Dolomite Sky Race, restano solo 50 pettorali. La Dolomite Sky Race è gara da record, a dirlo sono i numeri fatti registrare lo scorso anno, con oltre 1200 partenti fra la Vertical e Sky, a rappresentanza di ben 32 nazioni. Dopo un mese esatto dalla data di apertura delle iscrizioni del 7 gennaio 2015, è praticamente già stato raggiunto il sold out, fissato dagli organizzatori, nella quota di 700 atleti, al numero massimo fissato per poter garantire sicurezza e gestione logistica a tutti i partecipanti, mancano solo altri 50 pettorali. In questi giorni sarà quindi caccia al numero, rimangono ancora aperte le iscrizioni per la gara del venerdì 19 luglio, ovvero la Vertical Kilometer. Iscrizioni effettuabili dal sito www.dolomiteskyrace.com Una sfida tutta in salita, con partenza dai 1465 metri di Alba di Canazzei ed arrivo ai 2465 metri di Crepa Negra. Per quanto riguarda invece la Dolomite Sky Race, proporrà il collaudato percorso completamente immerso nelle Dolomiti di Fassa per uno sviluppo totale di 22 chilometri, dei quali 10 in salita e 12 in discesa, con un dislivello positivo di 1750 metri, ma soprattutto i suggestivi passaggi a Forcella-Pordoi, quota 2829 metri, e Pizboe, 2871 metri. Il tutto esaurito è dunque la più lampante testimonianza del prestigio e del fascino della Dolomite Sky Race. Il prossimo 21 luglio 2015 taglierà il traguardo delle 18 edizioni. Un evento inserito anche quest'anno nelle Skyrunner World Series, la Coppa del Mondo delle gare di Sky Race, circuito che eserdirà proprio con la competizione di Canazzei per poi proseguire a Zermatt, Svizzera, nel Montana, Stati Uniti, Hong Kong, Cina e chiudersi a Limone Sul Garda ad ottobre. Anche la gara fassana del Vertical del venerdì sarà inserita nel circuito Skyrunner World Series 2015 e sarà a seconda delle 5 prove in programma. Anche per questa settimana è davvero tutto. Giunti all'ultimo cambio, punta in alto, senza paura! Grazie a tutti!